Ben tornati a Radio Design, io sono Nicola Palumbo, qui all'Istituto Italiano di Design, docente di web marketing. Oggi abbiamo un grandissimo ospite che si chiama Uesa, Riccardo in realtà, Uesa Channel, lo conosce tutti quanti. Salve a tutti, salve a tutti. È uno YouTuber strafigo, strafamoso, l'ho conosciuto seguendolo ovviamente su YouTube con i suoi video fighissimi, dove tu racconti appunto di libri, racconti di cose un pochino più elevate rispetto alle cose che la marmaia racconta nella rete, possiamo dirlo? Sì, ma a volte uso anche le cose meno elevate come trucco per cambiare discorso. Cose catchy per cambiare discorso, agganciare nuovi utenti, diciamoci la verità. Hai da poco superato i 50.000 follower, ho visto l'ultimo video. Allora, come è nata l'idea intanto? Perché Uesa intanto e come nasce il canale? L'origine del mio nomignolo non è nobile, ma deriva da serate alcoliche con gli amici quando eravamo molto più giovani e quindi il mio cognome che sarebbe Vessa sotto l'effetto dei fumi dell'alcol è diventato Uesa e quello è rimasto. E quindi mi ricordo, immagino io breconi, Uesa, Uesa, perché tra l'altro metto in difficoltà un sacco le persone perché siccome eravamo stupidi e lo scrivevo col W, è una cosa stupida, però non ha mica senso. E moltissima gente dice Vesa, perché alcuni il W non si sa perché lo leggono la tedesca. E quindi molti mi dicono, è bella Vesa, ma insomma. Cioè dico tipo Vesa, tipo un po' più tedesco. E quindi a un certo punto parlando con gli amici ti viene l'idea di creare un canale. Ma sì, ma sì, ti dirò che alcuni amici me l'hanno suggerito. Io ci pensavo già da un po', ti dico la verità. L'esperienza dell'università è stata fondamentale, nel senso che mi ha mi ha dato un po' di parlantina e un po' di faccia da culo. Posso dire faccia da culo? Puoi dire anche faccia da culo. Per essere un po' così facondo. Diamo un po' di spoiler, nel senso tu addirittura hai fatto quanti esami hai fatto? Più di 70, più di 70 per una questione di cambio di facoltà. Feci la triennale scienza della comunicazione, la specialistica filosofia, ma il cambio non era molto consigliato dall'alma mater, ma io non si sa come ho insistito. E quindi ho fatto una marea di esami anche ovviamente della triennale di filosofia. Beh, insomma, alla fine l'idea è stata quella di trasformare la parlantina da esami orali universitari, tipicamente quelli di filosofia soprattutto, di trasformarla in dei vlog, perché ho visto com'era YouTube, che conoscevo niente, zero, ho visto com'erano gli altri, cosa facevano gli altri, ho detto beh, sti cazzi lo faccio anch'io. E hai fatto benissimo, perché ha funzionato la grandissima. Ci è voluto del tempo, però alla fine vai. Allora, qual è stato il primo video che hai realizzato? Il primo video è stato un benvenuto, tipo benvenuti su Weza Channel, un video imbarazzante nel quale mi stiracchio assonnato senza aver capito assolutamente come si fa un video su YouTube, nel quale dicevo che il mio canale si sarebbe occupato di lettura, di poesie, di eh, cosa che ovviamente non ha funzionato ed è durata pochissimo. Vabbè, continui a farlo, dai. Beh, un po' di letteratura ogni tanto ci finisce dentro, però bisogna essere un pochino più accorti, un pochino più attenti ai trend, topic, perché se no… Quanto influisce su di te, diciamo, quanto influiscono su di te le keywords? Le keywords? La stessa Google ti dice non farci troppo caso. Di sicuro ci devi far caso nel titolo, molto meno nelle tag. Quindi non… il vecchio… il vecchio trucchetto di mettere le tag di tendenza non funziona. Nel momento in cui una cosa la fanno tutti, Google se ne accorge… È troppo furbo, è una stronza. È una svaluta, ovviamente. Però è un buon titolo, che abbia il nome che interessa e, ad esempio, una buona thumbnail che faccia… il thumbnail serve… la miniatura, no? Insomma… che faccia capire di che cosa vai a parare, serve, serve assai. Sì, la copertina fa molto, c'è poco da dire. Allora, qual è stato il video che invece ha fatto il botto? Questa è una storia, questa è un aneddota tremendo, che spiega benissimo come uno youtuber debba essere rapace sui trend topic. Attenzione. È successo, sarà stato un anno fa, sì, circa un anno fa. Ci fu la notizia di Will Wush, che è uno youtuber storico, strafamoso, bla bla bla, e lui fece il suo coming out, fece il suo video nel quale dichiarava di essere omosessuale in modo molto divertente, nel senso che… Eh, me lo ricordo. Questo video, dicci cose che mi piacciono e che non mi piacciono, e palesò la cosa. Pensa che quella giornata… Sì, mi ricordo, mi piace la figa. Esatto, esatto. E quella giornata lì, io ero tornato a casa, non mi ricordo che cosa avevo fatto, ero distrutto, alle 5 del pomeriggio, non avevo nessuna intenzione di fare un video. Apro il Post, che è un giornale di notizie fenomenale. Bellissimo, lo seguo anche io al top. Che leggo sempre, senza dubbio, il migliore in Italia. Quoto, quota. Da un punto di vista sui generalisti. La stampa e il Post, basta. C'è un paragone, sono d'accordo con te, e leggo questa notizia, addirittura la notizia di quello che ha fatto uno youtuber, e l'aveva fatto una manciata di ore prima. E tu ti sei lanciato. Arrivava fino a un sito come il Post, allora ho pensato, ehi, 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 siccome due cose da dire sul discorso della tolleranza, xenofobia, ciotra, ce le ho senz'altro. Mi sono andato a vedere il video di Willwush, perché sai, devi sapere cosa fare. Ho visto che secondo me era geniale, perché è stato, non poteva farlo meglio di così, è stato veramente, veramente in gamba. E allora mi è venuto veramente naturale fare al volo un video, uno dei miei pochissimi video brevi, due o tre minuti, e questo per me è una cosa molto rara. Eh sì, infatti, lo so che tu fai senso, per anche venti minuti spesso. Sì, sì, sì. E cosa ti devo dire? Grazie alla fibra ottica, quindi è tutto, sì, sì, è tutta una questione tecnologica. Mi sono ritrovato online con il video, quattro ore dopo che lui aveva fatto il suo, una cosa del genere? Tra i primi che discuteva. A un certo punto, se tu, per dirti come funziona, che poi si aggiusta sempre, quindi stiamo parlando di un anno fa, chissà oggi, per dirti come funziona l'algoritmo, a un certo punto se tu digitavi Willwush su YouTube, la prima cosa che appariva era il mio video prima del suo canale. Che bomba. Per qualche ora, naturalmente, però questa cosa è stata, sono finito in tendenza, mi è capitato tre volte di finire in tendenza, e sono, se riesci a fare un video interessante su un tema caldo, dicendo qualcosa di intelligente, e risultando, secondo me, gradevole in qualche modo, allora funziona. Ma ti chiedo, visto che ho visto i tuoi video e comunque tu usi comunque un lessico che non è da popolo comune, da plebaglia, direi io, di solito, tendenzialmente, non hai mai pensato, oddio, adesso rischio di perdere comunque una base di follower che magari non riescono a capire, anche quello che dico. No, 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 non ci ho mai pensato per un motivo molto semplice, è fondamentale distinguersi, è fondamentale essere particolari, se tu hai la fortuna, e in realtà questa fortuna ce l'abbiamo tutti, bisogna solo saperla vedere, quando sei allo specchio la devi vedere, se tu hai la fortuna di avere qualche cosa di, non dico unico, ma comunque che ti fa risaltare, tu quella cosa non la devi toccare, è quella la tua forza, è ovvio che io non ho una prospettiva di crescita, la Favij, questo è naturale, però ho una chance… Hai un unico, ho una tua nicchia… Ho una chance che non avrei altrimenti, ma stiamo scherzando, quindi sono felicissimo di non dover cambiare il mio modo di parlare, che come hai visto è quello della vita di tutti i giorni, non devo elaborare niente per i video. Sì, ma infatti secondo me il tuo punto di forza è proprio quello, che hai una tua nicchia e effettivamente sei l'unico che probabilmente affronta quelle tematiche in quel modo. L'unico forse no, però ho un modo abbastanza speciale e la nicchia che dicevi te sono dei follower che comunque ti danno una grandissima soddisfazione, perché è un piacere incredibile essere seguito da persone così attente, così curiose. Tante volte mi capita che la sezione commenti di un video sia cento volte più interessante del video stesso, perché si creano dei dibattiti bellissimi, un sacco di contributi. Dai, questa cosa ti mette il buon umore. Quanti libri legge Wes al mese? Dipende, dipende. Vado a periodi. Ci sono dei periodi in cui ne leggo tre, quattro alla settimana e dei periodi in cui ne leggo uno ogni tre settimane. Quindi adesso è un periodo che sto veramente leggendo tanto, perché mi è capitato di recente, siccome il canale è la mia attività, non posso considerarlo secondario a nulla, mi è capitato di recente di fare un video di consigli di libri, perché i miei utenti me lo chiedevano da una vita. Io non ne avevo mai voluto farlo. L'ho fatto. È molto interessato, è piaciuto. E allora ho pensato, guarda che bel trucco, che barbatrucco per mettersi a leggere di nuovo tantissimo e così dare anche dei contenuti. Un ragazzo, a un certo punto per i 50.000 ho chiesto, avete dei consigli? E un ragazzo mi ha scritto, il consiglio che ti do è quello di spendere dei soldi in libri e leggere libri, guardare film e portarci tutto quello che fai. Mi chiedeci, cazzo, più di questo che cosa vogliono nella vita? Allora, abbiamo fatto bingo. E' tirata la grande. In percentuale l'amore per i libri, il cinema e i fumetti o comunque i videogames? Sicuramente il mio amore originario sono i videogiochi. Io sono cresciuto in una generazione, quella dei nati negli 80, noi anziani, che è stata imbevuta o se vogliamo parlare un po' figo, imbibita, che esiste si può dire, nella cultura giapponese degli anime e dei videogiochi. E' ovvio che cresci, studi, l'arte, tante cose belle, bla 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 bla, ma io sono cresciuto con questo immaginario giapponese, dal Super Nintendo ai Cavalieri dello Zodiaco Kenshiro e quant'altro. Quello che tu hai come imprinting da ragazzino non lo cambierai mai, perché tu quell'infanziale hai avuto, non ne hai avuto un'altra. Quello è il vero amore. Quando io penso, l'amore ovviamente che non è quello per una donna, quando io penso a certi ricordi bellissimi delle mie prime partite casalinghe a un Super Mario o certi pomeriggi a guardare gli anime, quelli che all'epoca nessuno li chiamava anime, erano i cartoni giapponesi. I cartoni animati. Sì, 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 sì. E lì ti si scioglie il cuore. Quindi quello è l'amore originario. Poi per me i libri sono arrivati dopo, verso i 18 anni. Io non ho letto niente fino ai 18 anni. Odiavo leggere. Davvero? Sì, sì, sì. Avevo letto solo Asimov. Asimov me l'ha piaciuto da matti. Ecco. Ma detestavo leggere. Ma allora, prima di diventare youtuber, che poi ci hai detto che è ormai la tua attività principale, che altri lavori hai fatto? Ho fatto dei lavori normali, sui quali preferisco non attardarmi, ma fai lavori d'ufficio che non mi hanno dato grandi gioie. Ma sempre nella comunicazione o hai fatto anche cose folle? No, no, no. Cose di ufficio veramente… Amministrative, cose tristi. Sì, sì, sì. Tristi. E lì ho capito che volevo fare cose folle. Nel senso fare il lavorsino classico. Figurati, hai laureato in filosofia, o vai in un ufficio e fai lo youtuber. Lo dico a chiunque ci stia seguendo. Fate ingegneria. Fate ingegneria, mi raccomando. E quindi lì ho capito che volevo fare il pazzo nella vita, il freak. Perché? Che cazzo? Cioè, non credo nella reincarnazione, né nella vita dopo la morte, né nell'immortalità dell'anima. Se ci credessi, forse potrei sacrificare una vita a fare cose che non mi piacciono. Non credendoci la vedo dura. Onestamente, prima di schiattare voglio divertirmi. Ma scrivere un libro e adesso magari gli dico una cazzata. Allora, io ho scritto degli e-book. Ok. Sai che online tu puoi autopubblicare a costo zero e hai una grande percentuale. Ovviamente non hai la grande distribuzione. Quindi io ho scritto degli e-book che promuovo sotto i miei video. Uno parla di videogame, ad esempio. Uno parla di politica. Uno parla di... Sono recensioni. Insomma, argomento abbastanza vario. Il discorso di scrivere un libro vero proprio è una cosa... Che ormai youtuber... È un classico. È un classico. Anzi, a Bologna c'hai la sezione youtuber, eh, in libri. Sì. Te lo giuro. Sì, 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 sì. Poi ci sono questi qui che hanno 15 anni e ormai fanno il libro a 13 anni che a me fa ridere. È impossibile che un ragazzino di 14 anni faccia un libro. Il libro non è quello che ci immaginiamo. Il libro è semplicemente una legittimazione e un tentativo di conquistare il nuovo mercato. Non è altro, secondo me. Il libro normale, ufficiale, diciamo così, è una cosa che mi piacerebbe. So che ci sono influencer o creator che hanno anche meno numeri di me che l'hanno fatto. Però, sai, devi avere proprio un bel progetto. Io ho tantissima roba scritta da parte, però è una cosa che mi voglio studiare. È molto importante non avere fretta, secondo me. Allora, cosa fa uno youtuber nel quotidiano? Dipende da che cosa fa su YouTube, perché essendo che io non faccio montaggio, taglio la punta, taglio la coda, metto a sincrono. Questo punto lo volevo chiedere dopo, ma hai anticipato. Diciamo che non sono uno che cura tanto l'aspetto tecnico, quindi a me non occupa tempo stare sul programma di montaggio, mentre invece per moltissimi altri youtuber, cosa fa uno youtuber? Fa montaggio. Quindi moltissimi ti direbbero dieci ore al giorno, non so, a fare così. E per quanto mi riguarda, io invece devo blatterare, e per blatterare, è così, per blatterare devo mangiare robe da dire. E quindi, dai, guardo molti video, sto molto sulla piattaforma, perché ho imparato ad affezionarmici e oggi sono un grande consumatore di YouTube. E poi bisogna un po' leggere e bisogna un po' informarsi. Così? Allora, essendo docente di web marketing, ti chiedo, il mio forecast, attenzione, le mie previsioni dicono che, secondo me, YouTube crescerà un botto nei prossimi anni. Anche secondo me. Lo dico contro il mio interesse, perché i clienti forse mi stanno ascoltando. Però, Facebook, Instagram, eccetera, tutte queste piattaforme di social networking, a differenza di un social media, qual è YouTube, che è un'altra cosa, poi lo spiegheremo in un'altra puntata, sta crescendo tantissimo. Nel senso, anche io, che sono molto nazional popolare, sto lentamente abbandonando le piattaforme classiche e sto andando lì dove le persone creano i contenuti. Quindi podcast, infatti non a caso siamo in una radio, e non a caso ieri Repubblica ha lanciato i suoi primi podcast d'autore, quindi è una cosa che sta arrivando ormai ovunque. E lo stesso vale per i video, cioè lo YouTuber e il podcaster, secondo me, saranno i prossimi influencer. Sono d'accordo con te. Io il discorso podcast ci ragiono. Credo che prima o poi lo farò, ma non è il momento per me adesso, perché voglio molto concentrarmi sulla piattaforma YouTube, ma la piattaforma YouTube è potentissima. È potente, secondo me è la più potente. Per un motivo molto semplice, tiene l'attenzione delle persone. Cosa che Instagram, hai presente Instagram TV, il fallimento che è stato, è stato un flop sostanzialmente. Io ci scommettevo, anche io speravo che ho fatto dei video, non gliene frega niente a nessuno, perché tu vai su Instagram per starci cinque secondi. Cazzeggio. Per cazzeggio non entri. Swipe. Pensa che adesso stanno studiando come non farti nemmeno più muovere il pollice e fare solo Sì, c'è l'ultimo aggiornamento, sarà tutto video, swipe. Esatto. Tu non entri su quella piattaforma per stare tanto attento. Voi le cose veloci, no? Voi le immagini, non voglio essere volgare, ma magari vai anche a vedere ragazze succinte, diciamo così. YouTube invece ha una cultura diversa. Quando tu clicchi il pulsantino rosso di YouTube sulla tua applicazione, tu sei già nell'umore, sai che lì si vanno a vedere i video, sai che lì si sta un pochino più attento. Questa è una cosa pazzesca. Ci sono content creator che si possono permettere di fare video di ore. Magari non sempre, però tu hai ad esempio Montemagno che alterna i suoi video pillole molto brevi e poi ti spara un'intervista di un'ora a Luis e la gente la divora perché è un contenuto che in realtà è apprezzato. Tutti abbiamo voglia di stare attenti con qualcosa di interessante, solo che non siamo più abituati. E quindi YouTube ha un grande potere di tenere l'attenzione delle persone. E dov'è l'attenzione delle persone? Sono gli inserzionisti. Quindi c'è la possibilità, se ti sai distinguere, di fare un ritorno. E poi c'è anche il senso di fare qualcosa di buono, perché tu lo fai per gli altri. Cioè se tu crei valore, tu vuoi fare l'influencer, è perché vuoi influenzare il mondo in qualche modo, vuoi spostare qualcosina. E quindi devi andare dove l'attenzione delle persone sta. Sì, è vero, è verissimo questa cosa, è allucinante. Quali sono però i tuoi prossimi progetti? Per esempio un piccolo spoiler lo possiamo dire riguardo a quello che hai citato prima. Sarebbe a dire il discorso Montemagno. Eh va, adesso con Monti siamo amici. Siamo molto in contatto. Ok. Si tratta sicuramente, ecco ad esempio il discorso Montemagno, molto interessante, perché lui è un esempio di come usare la piattaforma, cioè usarla per fare ponte con altri creativi e per creare un bell'ambiente collaborativo e di conoscenza reciproca fra personcine in gamba, diciamo così. e lui è molto un esempio in questo. Anch'io ho fatto tante live sul mio canale proprio per, perché mi piace collaborare e stare ad ascoltare gli altri è una cosa che mi interessa molto. Per quanto mi riguarda, sai, l'obiettivo è sempre quello di sviluppare il progetto, farlo crescere. Non ho una visione di, io purtroppo in questo sono molto difettoso, io non ho mai una visione di lungo periodo. Io non so neanche cosa faccio domattina. Infatti ti volevo chiedere. Non so che video faccio la settimana prossima, non ne ho la più pallida idea. Mi piace così, sto molto più leggero, perché voglio essere reattivo ai cambiamenti, quindi boh, e chi lo sa che faccio domani, non ne ho idea. Tu sei totalmente autonomo o hai collaborazioni con agenzie? Totalmente autonomo, non ho network, mai dire mai. Però preferirei non averli, perché... Perché Wheelwash, per esempio, aveva l'agenzia e ha detto adesso basta, ritorno a fare il mio editing da solo. Sai, un collaboratore che ti fa editing è una bella comodità, però a me non servendo poi... Fai veloce. Infatti, avere un network, magari ti dai contatti, quelle cose lì. Ma boh, sai cosa? Preferisco farlo da solo perché, secondo me, parlo solo per me, sono finito su YouTube per non avere nessuno sopra di me. Certo. Per non avere il capo, per non rendere conto a nessuno di quello che faccio, ma soltanto al pubblico e a me stesso. E quindi, sai, domani arriva un network che ti propone qualcosa di talmente scandalosamente vantaggioso? Ci pensi, è logico. Però è molto difficile se non hai dei numeri sul milione e così. Quindi non è una cosa che fa per me. Quante avance hai avuto da case editrici che volevano spingere un prodotto e tu... Capita, capita. Più cresci, più ti arrivano mail di aziende che vogliono promuovere cose. Io non ho mai promosso niente. Ho fatto recensioni, ho detto questa cosa molto bella di cose che mi piacevano senza guadagnarci un centesimo. Al massimo se hai link Amazon, che sono un bel modo per aiutare i creativi, ma non... So come si fanno bene le promozioni, perché ci sono dei creativi che stimo che lo fanno. Cioè tu hai l'azienda che dice fai la promozione di questo prodotto e tu dici all'azienda. Io dico esattamente quello che voglio di questo prodotto. Eh certo. L'unica cosa che hai è la visibilità del prodotto. E lo dico, oddio. Questa è una cosa che se dovesse capitare a qualcosa che mi interessa lo potrei anche fare. Però per ora non è... Ho detto di no a proposte che avevano talmente poco senso per il mio canale. Ma ti parlo di banche d'affari, magliette, cioè cose che... Che cazzo c'entra con quello che faccio? Banche d'affari! Te lo giuro, te lo giuro. Per cui nomina questa banca... Adesso banca ma sono quelle cose molto versate sul trading, eccetera. Nominala nei primi 30 secondi. Ma no! Cioè proprio no! Per due lire vai a fare qualcosa di posticcio che non serve a niente. Come spieghi a tua nonna il tuo lavoro? Beh, innanzitutto per comunicare con mia nonna dovrei essere capace di comunicare con l'aldilà. Ah ok! È una cosa su cui... Vabbè, i parenti anziani. È una cosa su cui sto lavorando. È molto bello, secondo me, praticamente non poterlo fare. Stavo pensando l'altro giorno a una cosa divertentissima. Se io incontrassi il me stesso all'età di 10 anni, no? E lui mi dicesse, ma ascolta, ma cosa sono finito a fare? E lui mi dicesse, guarda, faccio un video su YouTube. Pensa quanto sarebbe buffo che il me stesso di, quindi, 25 anni fa, non saprebbe neppure che cosa ho detto. Perché non esisteva, non aveva senso. Questa è una cosa bellissima. È una cosa che non è possibile spiegare a generazioni più vecchie, a meno che non abbiano veramente voglia di aggiornarsi. E questa è la figata assoluta, secondo me. Ma quanta gente tipo fa, la faccio per dire, ma che significa? Eh beh, quasi tutti quelli che te lo chiedono e di solito ti dicono, vai a zappare la terra, insomma, pazienza. Me ne faccio una ragione, non è un problema per me. Allora, tu dicevi che hai iniziato tre anni fa, giusto? Un po' meno di tre anni fa. A dire la verità, a fare proprio sul serio iniziato a gennaio 2017. Quanto vale la costanza e la qualità in un prodotto editoriale di questo genere? È molto, molto. La costanza vale moltissimo. La qualità, sai, è sempre negli occhi di chi guarda, quindi l'host ti dirà sempre che il vino è buono. Per me il mio è qualitativo, per lui è qualitativo un altro. Su qualità, sai, preferisco non usarlo tantissimo come concetto, perché è davvero soggettivo. Una cosa che non è soggettiva è la costanza. È una cosa... Lì casca l'asio, ne casco anch'io perché non sono costante come vorrei, però rende dei bei dividendi essere costanti. È una cosa su cui non bisogna sottovalutarla. Quando hai iniziato, quante volte ti sei detto, oddio, adesso basta, mi sono rotto? Ah, sei sempre andato così dritto? Mi sono divertito, mi piace. Come un treno? Mi piace, mi diverto. È la cosa fatta apposta per me. Cioè, io questo devo fare nella vita. Quanto ci hai messo per capire che stava funzionando, invece? Un bel po'. Innanzitutto ci ho messo un bel po' per capire come funziona. Ok. E poi per dire, dai, funziona davvero, dai, un anno fa c'è stato un po' il botto e da un sei mesi a questa parte l'all-in è stato reale. Quindi comunque due anni di costanza per arrivare. Ah, se vogliamo parlare di costanza parliamo anche veramente fin dall'inizio, quindi possiamo dire quasi tre anni. Sì, 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 per forza. È un'attività imprenditoriale che non ti rende nulla, a meno che tu non sei Luis, ok? Non ti rende nulla per tanto tempo e devi proprio crederci. Devi proprio crederci, devi anche potertelo permettere, sia ben chiaro, però devi proprio crederci. Se non fossi youtuber, quale lavoro vorresti fare oggi? Un lavoro bello che non sia fare lo youtuber? Scrivere. Scrivere è una cosa molto bella. Penso che una persona è fortunata quando per campare scrive cose legate alla sua immaginazione. Romanziere, ma anche creativo nell'ambito videoludico o cinematografico. Penso che quando una persona ha la fortuna di creare mondi con il suo tempo, e poi in quei mondi ci metti messaggi, ci metti quello che vuoi. Però hai veramente la fortuna di avere tante vite, tante vite quante sono i mondi che crei. Quindi forse quella è la cosa più bella di tutte. Beh, figata. Non ti rubo altro tempo perché abbiamo esagerato, perché però era una figata averti qua. Sono logoroico. Grazie, anche io abbastanza, quindi come puoi immaginare potremmo andare avanti per ore e ore, ma ci fermiamo, se no stiamo esagerando. Va bene, grazie mille ancora. Grazie a te. E seguite ovviamente Uesa Channel su YouTube. Ciao. Ciao. Grazie.